Io credo che design, artigianalità e innovazione siano i cardini fondamentali attorno a cui ogni prodotto di successo ruota. Farli convivere insieme in realtà non è difficile perché si tratta principalmente di una forma mentale secondo me, è la capacità di non accontentarsi di un prodotto bello o di un prodotto ben fatto o di un prodotto tecnologicamente all'avanguardia, ma esigere queste tre caratteristiche all'interno dello stesso prodotto. Gli occhiali ricoprono secondo me una posizione atipica, io li vedo come una via di mezzo tra il product design e il fashion design e credo che un prodotto, un occhiale di successo debba ricoprire e rendersi conto di questa sua posizione ibrida. Io sono un grande sostenitore delle forme particolari, dei volumi ricchi, dei dettagli e quant'altro, però dobbiamo sempre tenere a mente che l'occhiale viene portato sul volto delle persone e credo che possa davvero definirsi un oggetto di design di successo quando è capace di esaltare questo volto e non di nasconderlo o farlo passare in secondo piano. Avendo fatto dell'incompletezza, la completezza di The Quail Before, il nostro claim sarà proprio out of.